Ce la stiamo vivendo molto bene questa situazione, grazie al frutto anche del nostro gruppo perché è veramente speciale, molto unito, molto unico e si vede anche da fuori secondo me e questo ci aiuta veramente tanto a tenere comunque una tranquillità e una serenità molto particolare. Sì, sì, assolutamente, questo è il motore, la benzina per il nostro motore e sicuramente giocarlo in Italia con la nostra gente così ci dà veramente quella forza in più per giocare al meglio. Beh, le immagini che mi vengono in mente così a freddo sono le immagini di io che esulto con i miei compagni dopo punti importanti, punti decisivi e quelle sono le cose che ti uniscono a un gruppo e che ti fanno vivere comunque delle bellissime emozioni e ti preparano per le fasi finali di adesso.